Ecco, un momento molto molto importante, almeno per noi che siamo dei vintagisti, è il premio alla carriera all'architetto Gaetano Castelli, ecco, un bellissimo momento perché ricordiamo che Gaetano Castelli ha disegnato forse le più belle scenografie di Sanremo, non tutte, lo ricordiamo ne ha firmate 22 su 75, per cui chiaramente ne ha fatta una parte, però significativa perché praticamente dal 1987 in poi si è fatta tutti quelli di Baudo e tanti altri, insomma, a partire dall'87-88 che ci ricordiamo, aveva un bellissimo design quasi futuristico e poi dopo nel 2003, in Total White, non so se ricordi, Carlo? Sì, a me piacevano molto appunto quelle del 2002-2003, quelle dell'87, sì, molto tipo quasi come astronave futuristiche, era un po' lo stile del tempo, già fin dal, che non era lui, però ad esempio nel 82 era, mi pare, Enzo Somigli, che però aveva appunto questo stile di disegnare il palco di Sanremo quasi come se fossero delle astronavi, insomma, e sì, beh, questo è, perché lui ha saputo sempre, non ha mai seguito una sua filosofia precisa, ma si è sempre saputo o adeguare ai tempi, oppure in determinati periodi utilizzare determinati canoni stilistici che poi... Retro, ricordiamo il periodo 92, 93, 94, quando si è ispirato al genere, diciamo, anni, stile retro, diciamo, tipo anni 30, così, no? Stile Liberty, scusa. Stile Liberty, sì, 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 quindi assolutamente poliedrico, e poi le scenografie di questi ultimi anni, personalmente devo dire la verità, non è che mi entusiasmino particolarmente, però riconosco che comunque anche hanno la loro efficacia, soprattutto dal punto di vista visivo, perché esaltano molto la performance. Chiaramente adesso sembrano tutto uguali, francamente, ecco, negli ultimi anni. Faccio fatica a distinguere l'una dall'altra, forse perché ormai sono tutte molto luminose, per cui, cioè, una volta era quella la scenografia, cioè, per cui la vedevi, adesso invece è tutto in base, è tutto in funzione alle luci, per cui chiaramente il disegno quasi non si nota neanche, ecco. Diciamo che una volta la scenografia del festival, soprattutto da, diciamo, da metà anni, 70 in poi, era proprio una delle caratteristiche principali del festival stesso, cioè l'edizione, il tot del festival la ricordavi anche in base a, diciamo, ne abbiamo parlato, ad esempio quella del 78, una scenografia che nella sua semplicità è rimasta nella storia, così come le altre. Invece negli ultimi anni non è neanche necessario ricordare le caratteristiche della scenografia, il festival si ricorda per altre cose, insomma. Un po' passata in secondo piano l'importanza proprio storica della scenografia. Sono sempre grandi, grandi opere di pregio estetico. Certo, 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 chiaramente, quindi il giusto premio a Gaetano Castelli.